3FHD nasce come un sistema molto complesso e nello stesso tempo semplice da un punto di vista dell'immagine molto semplice quindi capace di adattarsi a diverse situazioni ma molto complesso per quelle che possono essere le sue aperture quindi all'interno di un sistema che si basa su una sezione H di un profilo di alluminio questo sistema può invece diventare molto ricco di altre funzioni di diverse soluzioni luminotecniche quindi è un sistema estremamente aperto e nasce proprio con quest'idea di apertura HD perché appunto si sottolinea il profilo in alluminio ad H ma nello stesso tempo anche un riferimento alle stelle quindi ha un'idea di luce primordiale e naturale che ci sembrava interessante sottolineare per noi questo è un prodotto che l'abbiamo pensato con una continua evoluzione nel senso che alla possibilità e il potenziale di essere sempre migliorato e quindi anche nell'ottica del dell'utilizzo nel mondo dell'ufficio crediamo che l'inserimento di tutta una serie di elementi aggiuntivi che sono di corollari a quello che la tecnologia del mondo dell'ufficio tipo wifi tutti i sistemi di sicurezza sono parte integrante di quella che è l'evoluzione naturale di questo prodotto. Il mondo degli uffici è cambiato tantissimo noi abbiamo seguito tanti progetti che hanno seguito questo cambiamento negli ultimi anni e uno degli elementi che è diventato sempre più importante è proprio quello della luce la luce è qualità la luce da un altro cambia il modo di lavorare delle persone cambia la qualità e il comfort delle persone che lavorano in questo spazio e aumentare la qualità vuol dire poi lavorare meglio avere una vita migliore quindi sono elementi estremamente portati importanti e la luce è probabilmente uno degli elementi più importanti grazie a tutti grazie a tutti